Parte terza, armata di solo scudo. Include anche noi l'ombra dei due giganti che incombono sull'Europa. L'imperatore Massimiliano e il re di Francia che hanno portato allo scoperto la loro voglia di conquista sugli stati d'Italia. Ingannandoci a colpi di false e mutevolissime alleanze. E come sono gli inganni più fatali, in principio sembrano captare ogni favore della fortuna. La Lega di Cambrai era in atto. Truppe francesi, ferraresi, imperiali e truppe del Papa muovono verso i confini veneti. Sono cadute Bergamo, Cremona, Crema, Brescia e arriva la grande disfatta veneziana di Agnadello. Ormai, è sicuro, l'imperatore e Luigi XII sono decisi a spartirsi le terre della Serenissima, e forse dell'Italia intera. L'altro grande alleato, Papa Giulio, si rallegra pubblicamente di ogni vittoria sulla sprezzante Venezia, ma i suoi intimi lo vedono già ombrato in viso. Noi allora stavamo dalla parte dei vincitori. Francesco aveva i titoli di capitano delle truppe pontifice e di luogotenente del re di Francia. Tuttavia i veneziani non ristavano dall'inviarci ambasciatori, tra i quali Carlo Valerio, gentiluomo nostro amico, offrendo in toni di supplica e di pianto centomila ducati d'oro perché Francesco prendesse il comando del loro esercito. Tutti i loro generali li avrebbero obbedito come putelli. Non si ricordavano i veneziani in che modo eravamo stati respinti? Francesco e Dio rispondemmo alteramente e non fumo nemmeno tentati di accettare. Umiliarli, quei superbiosi, era troppo un grande dono e ci compensava delle sferzate ricevute per tanti anni. Ma le beffe non finivano. A Dagnadello Francesco non poteva andare a cogliere la sua parte di Allori. Stava a letto con il suo brutto mal francese, molto piegato, lamentandosi contro le maligne stelle. E dovete leggersi la lettera del re di Francia che fingendo lo scherzo gli dava del poltrone. Ricominciavano le irrisioni. Francesco era malato davvero, invece. Il medico aveva comunicato i suoi risponsi e sapevo come procedevano le cose. La verità era questa. La sua età, ancora vigorosa, gli attacchi della malattia che lo tormentava da non poco si facevano più ravvicinati e gravi. Col mio aromatario, giusto da Udine, preparavo unguenti e acque composite, usando gli insegnamenti del fracastoro corretti da nostre ricerche. L'arte medica mi dava un pacato senso di buon restauro. Ero attenta e studiavo pazientissima le varie ricette di medici italiani e non italiani, antichi e moderni. Come mia madre e le mie ave estensi, ho la mano della risanatrice. Uscendo dal mio laboratorio, badavo a governare la nostra terra e mi avvedevo con rinnovato stupore che gli atti di governo non presentavano segreti per me. La disposizione a ben fare mi faceva apparire le faccende di cancelleria agevoli da sbrogliare. In fondo lo Stato era una grande famiglia da amministrare con giudizio. E meglio quando ci si spogliava da ogni passione. Veniva il caldo di luglio. Francesco risanava e finalmente scendeva in campo, deciso a mostrare il suo valore di capitano. Entravamo nell'agosto. Sebbene la vittoria di Agnadello datasse da più mesi, godevamo strascichi di gloria. Per nostro ordine si scalpellavano gli stemmi di San Marco. Dai nostri palazzi e in piazza il popolo bruciava i figi di capitani veneti dondolanti in certe loro gondole contraffatte. Le ombre dei giganti, Luigi XII e Massimiliano, parivano non incombere, ma perfino proteggerci. Mi rappresentavo Francesco a Verona, dove il re lo aveva mandato per presidiare la città contro possibili attacchi, muoversi tra i suoi soldati, rinvigorito da quella circolazione di umori militari, gonfio di propositi guerrieri, e pregavo Dio che le fumate della fantasia non gli turbassero la mente. L'otto di agosto, ignara di tutto, sono in palazzo intenta alle solite cure di corte. Mi annunciano il conte Ludovico della Mirandola, capitano leale di Francesco, ed io mi dispongo ad ascoltarlo con animo gioioso, nessun presentimento mi turba, ed eccolo, si presenta e subito mi afferra alla gola la sensazione di un altro apparire, quello di Giovanni Gonzaga, che annunciava la rotta dei milanesi. Uno stesso grigio ha il viso della disfatta, e così lo so. Mentre mi ingegnavo a tenere in equilibrio, in perfetta pace la nostra città, Francesco aveva trasgredito il comando del re di Francia. Uscito da Verona era andato verso Isola della Scala per calare su Legnago, terra di antica ambizione mantovana, una volta sottoposta ai Gonzaga e poi ripresa dai veneziani. Qui il racconto esitava. Sorpreso dalla notte, Francesco si era messo al riparo in una casa di contadini, in giubbone e senza armi, e così lo avevano preso prigioniero. Mentre fuggito da una finestra, si nascondeva in un campo di saggina. Incatenato, era stato trascinato a Venezia dove certo il popolo lo aspettava tumultuante di gioia vendicativa. Si distende davanti a me questa relazione umiliante e non voglio assumerne il senso. Assisto ad un sogno di feroci burle, mi dico, e intanto già comincio a dargli fede. Tutto è interrogativo, sgomento, smania, abbattimento supremo, ribellione. Prigioniero, Francesco, prigioniero di quei veneziani tanto odiati. Oh perché, perché ha lasciato Verona, perché ha osato l'insensata impresa di Legnago. Sfidare la fortuna così impreparato è proprio da lui, da lui e starsene a due passi, dalle escolte nemiche senza la vigilanza delle sentinelle. E una volta cerchiato, perché non si è battuto, perché? Già, capisco, l'hanno trovato senza spade in un momento smemorato. Come non saperlo? Era con una donna. Ma fuggire da ladro, Dio mio! Mi sento cadere in un abisso. Eppure resto lucidissima. I piedi ben fermi a terra mentre Ludovico della Mirandola aggiunge che ogni nostra ricchezza è stata razziata. Cavalli, argenteria, armi, cannoni, gioielli, l'intero corredo di un capo. Del luogotenente del Papa e del Re di Francia. La realtà non si discute. L'ira, se mi accecasse, non farebbe che aumentare il disonore. Fingiamo che non sia successo a me. E che io mi dibatta fra le ipotesi e le immagini che ci assalgono in una notte di sogni cattivi. Prima di tutto difendiamoci. Difendiamo i figli. Difendiamo il popolo. Si radunino i notabili della città, qui, nella sala grande. Che dirò? Che dirò? Mi raccomanderò con le lacrime. Farò la moglie affranta. Un impeto di rivolta, mi sprona. Quasi chiederei una spada da mazzone. Bisogna raccontare una storia. Dirò che tremila fanti hanno assalito il marchese di sorpresa e non sappiamo ancora se sia stato ferito o no nel combattimento. Inventerò una carneficina. Le sentinelle uccise a tradimento. Nugoli di soldati all'attacco. Cambierò in una storia d'armi sfortunata. Questa storia vile, più amara sventura. Non poteva toccarmi. Oh, coraggio. Farò parlare per primi i podestà, dei nostri paesi, specie quelli sui confini. Guai se il panico si allargasse. E Federico? I puttini sono tanto piccoli che fa compassione solo il vederli. Ordino di chiamare Federico. Si vestirà col suo nuovo saio carnicino. Sarà con me. Gli poserò la mano sulla spalla. Così dico e così faccio. Non perdo un minuto. Un fuoco risoluto anima i miei gesti e le mie parole. Passo la notte rincorrendo le ore con la veglia. Dettando lettere su lettere a pirrodonati. Tranquillo e sgomento. Lettera al re di Francia, disperata. Lettera alla regina di Francia, drammatica. Lettera all'imperatore, supplice. In giunzione a mio cognato, il cardinale Sigismondo. Parta immediatamente da macerata dove si ritrova per un servizio del Papa e mi venga accanto riparandomi con la sua porpora. Ogni mattina mi scruto allo specchio. Non sono affatto gualcita tanto la febbre di provvedere minutre. Quanti ordini ho dato. E tutti senza esitazione. Ho scelto accuratamente il vestito. Semplice, ma nobilmente tagliato in una stoffa di taftà leggero, bigio chiaro, che ariegi ad un abito da cavalcare. E un tocco piumato sui capelli che mi dia l'aria di essere pronta a qualunque occorrenza. I puttini sono con le balie. Le figlie dietro. Io con Federico in prima fila. Entriamo in sala grande. Ci sono tutti i podestà. Corre un'aria desolata di dispersione. Il nostro ingresso dà il primo segnale di coesione. Ripeto, ormai persuasa, la storia di Francesco caduto prigioniero con la spada in mano. Mi sdegno e mi commuovo alla congiura degli avvenimenti e sento che mi sdegno e mi commuovo alla verità che sta sotto il mio racconto, più pietosa dell'invenzione. Non crediate che io sia persa d'animo, affermo. Vi prometto che il Marchese presto sarà liberato. Dove prendo questa certezza non so. Ma essa vibra affermativa nel mio accento. Si avanza quello che sembra il più sgomento, il podestà di Sermide. La sua gente sta caricando la roba per mettersi in salvo. I veneziani potrebbero arrivare da un momento all'altro. Il podestà di Revere riporta notizie simili. Quello di Borgofranco dice che i contadini bruciano le biade sul campo piuttosto che lasciarle ai nemici. Li domino con autorità. Devono convincere tutti a tornare nelle loro case e al lavoro. Sposteremo soldati della nostra guardia e della guardia di Castello e li manderemo alle difese. Il piano si svolge davanti ai miei occhi netto e quasi semplice, tanto è chiaro. Sguarnire le fortezze del sud verso Bologna. Riversare ad est armi e soldati nelle rocche più esposte ai veneziani. Fare provviste per avere scorte in qualsiasi circostanza. Danaro non mancherà. Tutti i miei gioielli sono all'ordine. Splendono nei forzieri pronti per essere impegnati. Siate calmi. Credetemi. Insisto con calore. I nostri oratori già da ieri hanno iniziato i loro viaggi in ogni direzione. Il re Luigi non può negarci aiuti. Siamo alleati e così l'imperatore. Ci getteremo ai piedi di sua santità. Muoveremo il mondo intero, se sarà necessario. Prende la parola il podestà di Mantova. Che vorrà costui? Lo conosco per un sollevatore di dubbiosità, un uomo che fa nascere idee contaminate in ogni situazione. Dice con falso sussiego che deve garantire la pace della città, che il popolo è in grande agitazione, che si è sparsa la voce di una mia partenza con i figli per Ferrara. Lancia uno sguardo rapido al mio cappello. Fa una pausa. Per fortuna pensa di essere molto scaltro, chiedendo che Federico cavalchi da solo per Mantova. Il popolo si sentirebbe più sicuro. Avrebbe la certezza di non essere abbandonato. Respiro dopo un istante di sospensione. Eh, non si sa mai in quale nebbia ti precipitino gli irresoluti. A consento subito, la cavalcata era già nei miei piani, guardo Federico. È fulgente, composto, più infantile dei suoi nove anni, ma non ha paura. Di nulla. Come lontano e miserevole nella mia mente l'immagine di Francesco, prigioniero avvilito di fronte a questo fanciullo magnifico che solo apparendo chiama la fede e il consenso dei sudditi. Gli sono riconoscente di essere mio figlio. Lo affido con un cenno arrozone suo precettore. Federico mi fa un saluto irresistibile, appena grave, un poco ridente nel fondo degli occhi. Quasi nel suo animo permanesse comunque un senso di gioco. L'istante mi esalta. Sento che il popolo riunito nella piazza grida il suo nome. Lo hanno capito. Qualunque cosa sia per accadere, il Marchese di Mantova è a Mantova. In quei primi giorni compositi di contrasti ero divisa nelle alternanze della speranza e della disperazione. In un traffico ininterrotto, oratori e inviati portavano missive alle quali lavoravo di prima mattina a spirito fresco. Di una lettera feci venti copie adattandole volta per volta ai destinatari. scrissi ad ognuno dei cardinali di qualunque parte politica. Scrissi a Firenze, a Napoli, in Spagna, in Inghilterra e persino al Turco. Con ognuno dei potentati c'era qualche cosa da dire e da non dire. Bisognava distinguere a colpo sicuro. Non si doveva trattare con la minima alterigia a Reluigi, pronto da parte sua a farmi notare, dall'alto di una sua missiva consolatoria, che la disgraziatissima prigionia di Francesco non sarebbe mai avvenuta se egli non avesse trasgredito il suo ordine di restarsene chiuso in Verona. Cosa vera, crudele a sentirsela rammentare. Con l'imperatore Massimiliano il danno non era solo di giudizi e di mortificazioni. Egli prendeva pretesto da tutto, come da secoli fanno gli imperatori tedeschi nelle nostre terre per pretendere denari e provvigioni per l'esercito d'Italia, che secondo lui ci difendeva. Tributo, sottolineava, la cancelleria imperiale, doveroso per noi alleati. Denari ne avevo pochi e le vettovaglie servivano per le nostre genti. Occorreva dunque contrastare evasivamente, concedendo a stento la ventesima parte di quanto si richiedeva. La guerra contro Venezia faceva intravedere speranze di tregua. Il Papa, che alla prima notizia della cattura di Francesco aveva scagliato in terra la berretta bestemmiando San Pietro, era venuto a minor furia. E già riceveva ambasciatori veneziani che andavano a pregarlo di togliere la scomunica alla loro città e a quando a quando mi diceva brava, specie per la distribuzione delle forze militari nelle fortezze di confine. Appena credevo di aver parato un colpo, ne arrivava un altro, una pena si aggiungeva ad un'altra. Il re di Francia confidava ai nostri gentiluomini, come Alberto Pio da Carpi, affermasse che la qualità del Marchese di Mantova era infida e che facilmente fiaccato dalla prigionia egli avrebbe potuto tradire accordandosi coi veneziani. Il mio orgoglio sanguinava, davvero, ma fu peggio quando il re francese mi avvisò di voler mandare a Mantova cento uomini d'arme al comando di Monsignor D'Allegre a difesa della nostra terra. Mi drezzai su me stessa e immediatamente risposi che non avevamo bisogno di soldati. Il popolo era quieto e operoso, avevamo solo bisogno che Francesco tornasse a casa. Intanto inviavo alla regina un bel quadro, tra i migliori che avevo del Costa, pittore da lei sommamente ammirato, e facevo ricercare fra i nostri maestri berrettai alcuni bei cappelli per re Luigi, che a quanto mi si informava andava in giro con un copricapo di peluche sbertucciato. Le mie ragazze di corte, inguaribilmente giocose, risero non poco per quel cappelluccio del re di Francia. Ridevo, senza allegria io, pensando che sotto quel feltro liso c'era una testa coronata capace di comando. Da Roma, il papa continuava a ridire solo quel suo brava, irritante, mentre l'imperatore mi annunciava l'arrivo di un suo uomo di fiducia per aiutarmi a governare. Gli feci giungere un no, morbidissimo, ma assoluto. Da lui, l'imperatore, aspettavamo ogni bene, non però gente che si impacciasse di governo al quale con mio cognato, il cardinale Sigismondo, bastavo io. Così, quando l'autunno lasciò il passo all'inverno, decisi che almeno papà Giulio doveva obbligarlo solidamente. E il modo l'avevo. Per fortuna, nostra, era pronto da tempo il patto di nozze tra la mia figlia primogenita Eleonora e il nipote del papa, Francesco Maria della Rovere, ora duca d'Urbino, dopo la morte di Guidobaldo. Quel sovrano degli uomini animosi, tanto valoroso in battaglia quanto ammalato e angustiato. La mia Elisabetta, la cognata che chiamavo sorella, aveva patito con grande dignità la morte precoce del suo 35enne marito, vicino al suo cuore quanto altri non fu mai, e nei modi singolarissimi del loro amore. Su Elisabetta non mi sono stancata mai di fermare il pensiero. Con lei gustavo le dolcezze che da una cara e amata compagnia derivano. A certe mie vivezze sapevo opporre un contegno che non ho più ritrovato in nessuno, un lieve sorriso che le veniva dall'anima, gentilmente motteggiatore e sommessamente rassegnato, e nello stesso tempo di là dalla rassegnazione. Il suo limpido spirito non si è discostato mai da lei, pronta a partecipare dei sentimenti altrui, mettendo da parte le sue pene, e quel suo matrimonio bianco era riuscita persino a farlo accettare Francesco, sebbene egli sempre vi alludesse scotendo il capo, come cosa che per lei sola potesse essere giusta e sacra. Col suo grande animo tollerava con distacco le lodi insistite dei poeti e dei cortigiani che esaltavano la sua leggendaria castità. Era stata lei a volere quel patto di nozze tra il nipote adottato come figlio e la mia primogenita. Aveva prediletto Eleonora dalla sua nascita e l'amava più di quanto poi amasse Federico. Ho davanti a me il gesto delicatissimo delle sue mani, seguito dalla trepida occhiata di Guido Baldo, quando nella mia camera sollevò la bambina dalla culla per portarla a battesimo. A mano a mano si era creata tra loro un'affinità di malinconia, la struggente malinconia dei Gonzaga, quando avevano nome Cecilia, Paolina, Dorotea, Ludovico e Federico, padre di Francesco. Devo dire che io, giovane e folgorante, non apprezzavo in Eleonora quella tendenza alla mestizia che mi pareva amabilissima in Elisabetta, forse perché oscuramente mi sentivo giudicata da mia figlia, fin da quando era infante. Il viso serio, la voce modulata che trascorreva in improvvise durezze, il tenersi appartata e taciturna, componevano in lei uno stato di estraneità che si scioglieva solo nell'esercizio della musica. Scoppiava in lacrime per la minima riprensione, o peggio, si chiudeva in una obbedienza ostile. Eppure nascondeva in sé slanci di vitalità gioiosa. L'avevo vista quando si ballava nelle feste a Gresti, specialmente a Cavriana. Signore e Villanelle insieme sfrenarsi con una luce ingenua nel viso, diventando subito ombrata, si incontrava il mio sguardo. Sbocciata con grazia, cresceva bene. Appena adolescente correva per le corti la fama della sua bellezza, ma io non la giudicavo di tanta eccellenza e non mi sembrava giusto che circolasse una fama che poteva risultare maggiore del merito e danneggiarla. Così fui costretta a dire alla regina di Francia che, avendo udito tante lodi, chiedeva il suo ritratto, ci scusasse, ma la giovane nostra non era tanto bella da far girare per il mondo i suoi ritratti. Non sbaglio. Eleonora adorava suo padre e prendeva un'espressione di passione consolato ogni volta che lo vedeva. Lui la ricambiava, con tenerissimo entusiasmo, mai è stata dalla mia parte, mai, nemmeno nei miei più alti momenti, perché cosa mi riprovasse non l'ho mai saputo, ma se Elisabetta l'amava c'era in lei sicuramente qualche cosa da amare ed io, per amore di mia cognata, l'ho nominata nel mio testamento, lasciandole un ricco dono. Il contratto di nozze con il nipote del Papa, che Francesco aveva affettuosamente patrocinato per Eleonora, ancora dodicenne, era molto duro da rispettare in ogni suo punto. Il Papa pretendeva una dote maggiore di quella che io avevo portato a Mantua, 30.000 ducati spartiti così, 20.000 da dare al momento della cerimonia nuziale, 15.000 in contanti e 5 in vesti e gioielli, e gli altri 10.000 pagati in seguito. E i tempi sarebbero stati fissati da Elisabetta. Era davvero un brutto momento per le spese nuziali, ma mi risolsi a farle, sebbene gli urbinati venuti per ricevere la dote, i vestiti e gli arredi, secondo i patti, stringessero le labbra e mormorassero che quattro pezze di stoffa preziosa, panno d'oro, broccati e tele d'oro e d'argento formavano un corredo a dir poco esiguo per una principessa. Le concessi di prendersi tutti i vestiti che possedeva, alcuni ricchissimi che avrebbero dovuto essere conteggiati, ma non bastò. L'umore di Eleonora poi, quando sentì che doveva subito andare a nozze, divenne nuvoloso. Non le uscì di bocca nessuna frase festevole. Portava continuamente il fazzoletto agli occhi e per giunta sottintendeva che si cercava di mandarla a marito in condizioni da poveretta. Finalmente arrivò Elisabetta con un seguito molto ben fornito, vestita ed ornata, avendo deposto in onore della sposa il lutto per la morte di Guido Baldo. Non sopportavo più il viso lungo di mia figlia, impossibile starsene sereni di fronte a quelle lacrime e a quelle proteste. Eleonora voleva suo padre, essere benedetta da lui, rassicurarsi e scaldarsi alla sua presenza. La capivo, ma lei non capiva quanto potessi essere affranta da tante e diverse cure, come dovessi ad ogni costo risparmiare denaro per la famiglia, per la corte, per il popolo. Una mattina d'inverno, nel castello immerso in un'ondeggiante cortina di nebbia, ripeteva ancora quel suo lagno di infelicità «Non voglio sposarmi, non voglio sposarmi senza il bacio di mio padre». Tentavo di essere paziente, commentando che non erano tempi di baci, e lei gridò «No, non mi sposerò finché il mio caro padre non sarà tornato libero da Venezia. Ho deciso». «Tu farai quello che ho stabilito», dissi Perentoria. «Il marito è quello che da tanto tempo ti abbiamo destinato. È bello? È giovanissimo? Ti piace? Almeno così hai sempre detto?» «L'ho detto per obbedienza», mugolò a bassa voce. «E poi questo non c'entra, non voglio sposarmi senza mio padre». Persi la pazienza. «Sciocca!» gridai. «Tre volte sciocca. Non sai far altro che piangere. Non l'hai ancora compresa la lezione che tante volte ti ho spiegato? Tuo marito è figlio di un fratello del Papa, e del Papa abbiamo bisogno perché solo lui può imporre ai veneziani la liberazione di tuo padre». Costoro accetteranno tutto pur di essere assolti dalla scomunica. Se lo preghiamo col tono giusto, Papa Giulio può farlo tornare anche subito. «A io non ci sarò quando gli tornerà». «Tu no, ma noi tutti sì, io, i tuoi fratelli, il popolo! E io no! Tu sarai a Urbino, riverita e adorata, con un giovane marito, con la nostra carissima Elisabetta che ti ama teneramente. E nel più bel palazzo d'Italia, vedi che sorte infelice?» Mi accorsi che una delle donne aveva sulle braccia un drappo d'oro ricamato di perle da riporre nel cassone del corredo. Le sibilai un ordine. «Quello no, Venanzia, quello è mio!» Eleonora raddoppiò i singhiozzi. «Già, io non merito nulla, tutto mi si deve negare!» In quel momento era apparsa Elisabetta. Guardò me, guardò la nipote e non smetteva di sorridere. Si fece dare da Venanzia la pezza di drappo d'oro e con quella sua avvolgente maniera «Isabella, sorella mia, disse, ma questo non è il drappo che avevate promesso all'inviato del Papa quando venne a concludere i patti nuziali? Drappo d'oro, arracemi di perle, è proprio questo! E come può Eleonora presentarsi alla corte di Roma, la prima del mondo, se non avrà abiti da figurare? Non vorrete che si giudichi da lei il poco peso della vostra influenza? Questo drappo ce lo prendiamo, vero Eleonora? Farai restare di sasso tutto il Vaticano ed io ti darò in più una pezza di broccato con perle, pendule e rubini, dono del mio guidobaldo. Non c'è stato tempo per me di farne un vestito, servirà per la nuova duchessa di Urbino. Poi, volgendosi a me sempre con un sorriso, Isabella, da ieri il segretario nostro aspetta l'acconto di cinquemila ducati sulla dote. Staremo ai patti, staremo ai patti, risposi un poco a denti stretti. I vostri guardarobieri, i vostri segretari ci sono sempre addosso. Costoro fanno sempre così. Isabella, disse caramente Elisabetta, non badate a queste piccolezze. Noi saremo le vostre ambasciatrici a Roma. Non lo lasceremo respirare il Papa. Per forza dovrà costringere i veneziani a liberare Francesco. Mise la mano sulla spalla di Eleonora e la guidò fuori dalla stanza. La sentì dire con quieto fervore, sarai tu, figlia mia, a sciogliere la catena dai polsi di tuo padre. Mi ha cognato però con tanto lieto fascino che dopo giorni alterni di pianto e di serenità, ed in un pochi miei sacrifici, la comitiva noziale fu in ordine per la partenza. Fiumi di lacrime versarono tutti i figlioli e la corte quando Eleonora se ne andò una mattina di nebbia grossa. Sul ponte di Castello le persone che salutavano la sposa uscivano una per dalla fitta cortina come i recitanti quando si presentano alla commedia. Presto la comitiva fu assorbita dal grigio e non vedemmo più nulla. Giorni di festa e balli erano già preparati per la sposa a Bologna, a Imola, a Faenza, a Rimini e infine a Urbino. La notte di Natale, quando scoccò il punto di astrologia, i due sposi si unirono e la mattina dopo Elisabetta entrò scherzando nella loro camera, fingendo di rimproverare Eleonora che le rispose con un po' di broncio di aver fatto quello che le era stato comandato. Mi domandai se la notte nuziale fosse stata senza drammi. Pensai alla mia notte lontana, così affocata per i troppi assalti di Francesco Rovente. Sebbene ogni caso richieda tempo per essere risolto, speravo che da queste nozze, costate tante rinunce. Mi dovesse venire tutto e sollecitamente. Il Papa aveva chiamato a Roma gli sposi con Elisabetta ed Emilia Pio e gran seguito. La cerimonia della conferma del sacramento era stata pomposa, seguita da balli, rappresentazioni di commedie, concerti, corse di bufali per le piazze. Fedele ai nostri disegni, Eleonora cominciò a supplicare Papa Giulio per suo padre, assistita dalla zia, ma egli rispondeva vagamente, vagamente rassicurava. Si era ancora lontani dalla liberazione di Francesco e le lettere di lui, sempre più lamentose, ispessivano. Dichiaravo in buona fede che mi flagellavano e accoravano i cattivi trattamenti dei veneziani al prigioniero chiuso nella torresella. Mi si era persino ricusato di mandargli il suo medico. Per Natale gli avevo spedito il suo cantore prediletto, Marchetto Cara, che solo tre volte ebbe il permesso di andare ad alleviare la tristezza del suo signore. Mi capitò una strana cosa. Fui quasi delusa di sapere da Marchetto che Francesco stava bene nella persona e provvisto di ogni cosa che gli occorreva. Evidentemente c'era del vero, tanto nello star bene quanto nel suo lamentato star male. I carcerieri giocavano con lui per accorarlo di più. Ci fu un giorno che dovetti scrollare le spalle sdegnosamente. Il doge aveva detto in pieno consiglio che io avevo preso gusto a regnare e perciò non mi curavo della sorte di mio marito. Vere lacrime, piangevo, più rabbiose che offese. I veneziani, commentò mio fratello Ippolito quando venne a Mantova per rendersi conto dei miei portamenti, pesandomi da vicino, fanno gli aguzzini ai grandi liberali per dare a volta a volta coloritura miseranda o di speranza e così, con alternativa incalzanti, tengono sulla corda i loro nemici. Ferrara, più che mai fedele alleata dei francesi, impegnava le forze della Serenissima sui confini. Alfonso aveva fatto la sua scelta entrando nella Lega di Cambrai, contava di poter riavere le terre perdute da nostro padre nella guerra contro Venezia, quel bel polesine di Rovigo, dei cocenti rimpianti estensi. Quando Ippolito arrivò a fare la sua ricognizione da me in castello, non c'era traccia di virtù cardinalesca in lui, vestito di corazza, di cuoio e armato di spada. Non sono tempi che basti il pregare, mi disse asciutto scotendo la zazzeretta sempre benissimo curata. Nel fondo della berretta aveva fatto cucire uno specchietto e con l'aiuto di quello manteneva il capo sempre ordinato. A contrasto sembrava incredibile il suo tratto militare, brusco, carico di energia. Mi rivelò che in quei giorni una grande armata sarebbe venuta con le armi, con le navi per il possino a Ferrara e lui, il cardinale, avrebbe comandato le operazioni di difesa. Ostentava quel tanto di determinato fino alla ferocia che faceva presagire la disastrosa rotta della flotta veneta e la gran caccia fluviale che impegnò i ferraresi lanciandoli dietro ai fuggitivi nel violento fracassarsi della superbia veneziana. Sotto una bianchissima luce di plenilunio tutta la notte tuonarono le artiglierie di Alfonso colpendo l'armata di San Marco che risaliva il grande fiume. E tutta la notte Ippolito sotto quella luce restò a cavallo, pronto a dirigere i movimenti dei difensori. L'apoteosi ferrarese, il trionfo dei miei due fratelli, il colpo sferrato ai nostri nemici mi dettero un soprassalto di gioia e di timore. Che cosa avrebbe suggerito ai veneziani la sconfitta avendo un Francesco inerme nelle loro mani? Si sarebbero vendicati sul povero prigioniero? La loro possibilità di vendicarsi comprimeva il mio cuore fino a strizzarlo e accendeva in me lo sdegno antico contro la potenza della Repubblica, troppo assoluta a paragone del nostro equilibrio di piccoli stati. Mi parve però di respirare meglio quando pensai che un ostaggio del peso di Francesco, tale da poter quasi decidere le sorti della Lega, era troppo prezioso per disfarsene con una razione di veleno. Seguendo col pensiero una lezione di realtà politica e immaginando una difesa come fanno i grandi capitani quando prevedono mentalmente l'assalto nemico ai propri capisaldi, mi condussi in modo che qualcuno dei nostri, ammessi alla prigione, provocasse in Francesco uno dei suoi moti generosi. E infatti egli dette ordine di restituire quanti prigionieri veneziani avevamo a Mantova. Il gesto piacque al doge Loredan, ma non ci portò nulla di nuovo. Passato il Natale, i mesi dell'anno nuovo si numeravano già e Francesco rimaneva chiuso dietro la porta afferrata della Torresella. Ad un dato momento si pensò ad uno scambio di prigionieri, avendo i francesi nelle loro mani il gran capitano della serenissima Bartolomeo d'Alviano preso ad Agnadello, ma fu tale la reazione di re Luigi alla proposta, così sprezzante per Francesco giudicato di poco peso di fronte allo stimatissimo generale, che lacrime bollenti di umiliazione mi calarono sul viso. Asciugandomi, ritornai per la centesima volta all'idea che solo dal Papa e a qualunque prezzo avrei potuto avere aiuto, soltanto da lui. Sempre col rodio del prigioniero, seguivo dalle minime avvertenze dei nostri informatori a Roma il mutare di Giulio. Egli si stava gradatamente staccando dalla Lega, immettendosi in un pensiero diverso, volgente a liberare l'Italia dagli stranieri. E c'erano chiari indizi che lo dimostravano incline a togliere la scomunica ai veneziani. Primo passo per arrivare all'accordo. Bisognava però aspettare.